A Clima House 2019, Zender ha deciso di presentare la nuova termoregolazione, un sistema di controllo che permetta di gestire al meglio il comfort indoor, andando a controllare tramite vari sensori e vari apparati tutti i parametri, quali la temperatura, l'umidità e il ricambio dell'aria, al fine di garantire il miglior comfort indoor. Le comfort TH gestiscono la temperatura in caldo e in freddo e la deumidificazione, inoltre gestiscono e calcolano il punto di rugiada al fine di evitare la condensa superficiale nella fase di raffrescamento estivo. C'è poi un touch panel che permette di supervisionare tutto l'impianto e che permette all'utente di interagire con l'impianto stesso e di poterlo controllare da remoto e di interfacciare l'impianto con i principali sistemi di omotica tramite il protocollo Connex. Il sistema è composto anche da una CA control che è un controllore ambiente che permette all'utente di gestire i ricambi dell'aria agendo direttamente sulle velocità del recuperatore di calore. Inoltre abbiamo uno Zender TPC che è un modulo per la gestione della centrale termica, è espandibile fino a 4 unità e permette di gestire, di controllare impianti dalle piccole dimensioni fino a impianti di dimensioni maggiori. Il tutto è un sistema modulare flessibile che si presta ad essere installato dai piccoli e grandi edifici e anche alle ristrutturazioni.